Ciao a tutti che amici sono dello Scorpione, bentrovati in mia compagnia per conoscere le previsioni del vostro oroscopo per la settimana che va dal lunedì 16 a domenica 22 maggio 2022. Eccoci qui, vi ricordo se va di lasciarmi un like, un commento, un feedback, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, cliccate su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video di aggiornamenti futuri. Vi ricordo che queste sono energie generali, quindi non possono valere per tutti voi di essere uno Scorpione, per quello vi invito a optare per i miei consulti privati e personalizzati cuciti ad hoc per ciascuno di voi, quindi se volete informazioni vi lascio qui sotto tutto nel box informazioni. Benissimo, e cominciamo a captare le energie per questa settimana. Carta 17, realizzazione. 5 di denari 4 d'area La carta pur parler numero 36 Sfera generale, rigenerazione psicofisica E la carta del Salice, numero 56 Ok, cari amici, del segno dello Scorpione, quali sono le energie? Allora, in alcuni casi, qui potrebbe esserci proprio, e vado già all'ultima carta, questa rigenerazione a livello soprattutto fisico, quindi proprio corporeo, ma anche appuntista mentale. Vi dico questo perché abbiamo il 4 d'area. Qui alcuni di voi riusciranno a, appunto, rigenerarsi, riusciranno a riposarsi maggiormente, andare a una vacanza, prendersi cura di loro stessi, quindi sia da puntista fisico, sia da puntista psico emotivo. Infatti questa carta vi dice che è il momento di riposare, è il momento di prendervi un po' di tempo prima di decidere. Quindi, se avete in ballo delle scelte su più fronti della vostra vita, questa carta vi invita a non fare passi azzardati, passi falsi, cercare di prendere ancora un po' di tempo, magari decidere più avanti e prendersi ancora tutta questa settimana per capire ancora di più e andare a fondo nei riguardi di un rapporto o di una situazione. La meditazione potrebbe darti le risposte che cerchi, quindi in alcuni casi la meditazione e tutte queste pratiche potranno darvi quell'aiuto per rispondere a determinate domande, ok? Ora, dato che abbiamo il 5 denari e la carta del salice al rovescio, qui attenzione perché potrebbero esserci delle uscite extra, ok? Potrebbero essere comunque delle uscite di denaro che in alcuni casi, ovviamente non per tutti, però in alcuni casi non riuscirete a sostenere in toto, ok? Infatti il 5 denari parla di un senso di perdita e anche il salice, la parola chiave del salice potrebbe essere la perdita, quindi la perdita di un qualcosa che può anche avere un valore simbolico ma può avere anche un valore, visto che abbiamo qui la carta del denari, può essere proprio un qualcosa di tangibile dal punto di vista finanziario. Quindi potrebbe essere una settimana abbastanza delicata per quanto concerne le trattazioni economiche e commerciali e potrebbe esserci proprio delle difficoltà a livello monetario ma anche a livello magari di beni immobili come potrebbe essere la casa, la casa proprio in senso fisico, non tanto le persone che ci abitano, ma proprio il luogo casa, il luogo fisico, ok? Infatti come potete vedere da questa persona qui c'è proprio una tasca vuota, quindi una tasca al cui interno non ci sono soldi a sufficienza per sostenere anche delle uscite extra, delle spese extra o impreviste. Quindi potrebbero esserci delle imprevisti da puntista economico ma anche da puntista professionale, ok? Tenete a mente queste due carte, ok? Poi volente o volente però le energie di ingresso, le energie iniziali con questo numero 17 sono comunque energie di realizzazione. Cioè non è detto che alcuni di voi non possano realizzare quell'obiettivo, non possono fare centro, non possono sicuramente percepire qualcosa di positivo in quello che faranno nei rapporti interpersonali o da puntista lavorativo. Quindi se state aspettando determinate risposte per iniziare un qualcosa di nuovo oppure per continuarlo anche attraverso una diciamo nuova strada, qui sicuramente le cose potranno andare bene perché, ripeto, è tempo di realizzazione, è tempo di realizzare quello che davvero voi desiderate e che magari portate avanti da più o meno tempo, ok? Qui mi raccomando però, oltre a, diciamo, lavorare in questo caso, dovete però prendervi cura di voi stessi perché in alcuni casi vi avverto stressati. Avete proprio bisogno di riposare, di ricaricare le vostre batterie. Quindi sicuramente di fare una pausa presso una spa oppure anche un semplice massaggio può sicuramente donarvi anche quegli attimi per rimanere in pace con voi stessi, ok? Perché comunque sia qui nella sfera generale qua c'è una rigenerazione psicofisica. Rigenerazione psicofisica però solo se seguite gli insegnamenti di questa carta. Quindi magari riuscirete a dormire di più e riuscirete a prendervi comunque una pausa e una vacanza. Ovviamente nel limite del possibile, ok? Qui sicuramente con questa carta pur parler c'è bisogno di comunicare. Comunicare a voi stessi un qualcosa. Quindi anche sul piano spirituale attivare un dialogo con voi stessi. ma è importante anche comunicare con le altre persone. E ovviamente dovete anche sapere ascoltare gli altri, ok? Perché potrebbero comunque avere qualcosa di interessante e importante da dirvi, ok? Qui potreste entrare in contatto con uno o più persone, ok? Potete anche in alcuni casi esternare i vostri sentimenti. Quindi se siete single potreste anche esternare i vostri sentimenti alle altre persone. Ed è importante ascoltare anche quello che ha da dire l'altro. Perché in questo modo se attivate questo dialogo attivo, quindi comunicazione e ascolto, riuscirete sicuramente a magari risolvere qualche piccolo, diciamo, ostacolo che avete avuto anche in passato con un vostro partner, oppure un vostro membro della famiglia, o anche ovviamente dal punto di vista di amicizia o sfera lavorativa. Mi raccomando che, visto che qui abbiamo più uccelli e uno sta arrivando in picchiata qui, potrebbero esserci anche dei pettegolezzi, dei pettegolezzi magari che un'altra persona farà nei vostri confronti, un'altra persona che parlerà alle spalle, magari anche male di voi. Quindi, mi raccomando, fate attenzione. Magari l'altra persona dirà determinate cose su di voi anche se non sono veritiere. Cioè, lo farà proprio pur parler, come si suol dire, ok? Dal punto di vista lavorativo, qui potrebbe esserci per alcuni di voi un colloquio lavorativo, ok? Un colloquio lavorativo o comunque sia potrebbero esserci proprio degli accordi verbali che intercorreranno tra voi e un'altra persona, ok? Bene, sono camicie, queste sono le vostre previsioni e vi aspetto sempre qui sul Tavon Man. Ciao a tutti e alla prossima!